Oh, il volontario ha fatto la parte del volontario, facciamoci vedere Nefertarieva. Questa è la misura della forza di carattere, questa è la misura di ciò che ci si aspetta da te. Oggi dobbiamo dire tutti insieme che vogliamo il bene. E allora, per esempio, il mio intento è volere bene al mondo. E allora, il mio intento è cercare un Dio che con l'occhio guardi giù e sia paffuto, un po' tondo come me. E mi voglia bene, iamme 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 andiamo bene, con la gente solo se ci facciamo vedere. E allora davvero comincio a cantare, son buona.